Dire che Dio è morto come fa Nietzsche significa dire che Dio c'era prima, non muoiono quelli che c'erano, non muoiono quelli che non ci sono mai stati, per cui dire Dio è morto non vuol dire dire Dio non esiste e per questo l'annuncio della morte di Dio Nietzsche la fa pronunciare al folle, non la fa pronunciare all'ateo, perché l'ateo è nello stesso regime del credente, uno dice sì, l'altro dice no, ma sono nello stesso regime, il folle invece è fuori dal regime e dice Dio è morto, vuol dire che il mondo non si organizza più intorno a Dio, c'era un tempo in cui Dio c'era, che tutto era spiegabile a partire da Dio, oggi il mondo non è più spiegabile a partire da Dio, perché quello che dobbiamo renderci conto, noi quando leggiamo Nietzsche, che Nietzsche ha sempre letto in modo oracolare e enfatico, invece Nietzsche è un grande filosofo di una coerenza pazzesca, Nietzsche misura la verità sugli effetti di realtà, se l'idea di Dio non produce alcun effetto di realtà, se le chiese sono vuote, lui dice sono i sepolcri di Dio, sono diventati musei, Dio è morto, non va più in chiesa a trovare Dio, va in chiesa a trovare Giotto, a trovare Michelangelo, Dio è morto, Dio fa accadere il mondo, ci si comporta come se Dio fosse, no, allora Dio è morto, è finita un'idea esplicativa del mondo, è finita un'idea intorno a cui il mondo si organizzava, in questo senso Dio è morto, il Dio che è in mente Nietzsche è il Dio di Platone e il Dio cristiano, che hanno di comune quello di essere il principio di tutte le cose, allora se Dio è morto non c'è più un principio unificatore di tutte le cose, quindi non c'è più un senso, non c'è più neppure una storia, perché la storia nasce quando il tempo è iscritto in un disegno, in fondo la storia nasce col cristianesimo, quando alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato, allora il tempo non è più ieri, oggi e domani, ma è un tempo fornito di senso perché è iscritto in un disegno di salvezza, se Dio è morto anche la storia retrocede a livello di tempo e il tempo è un tempo non disegnato che non ha scopi e quindi la categoria del senso implode insieme a tutti i valori che intorno al senso hanno stati edificati. Sotto questo profilo Nietzsche è forse il più lucido lettore del tempo della tecnica, anche se la tecnica non è diventata mai una sua dimensione tematica, ma come atmosfera antropologica sì, basta leggere lo Zaratustra quando parla dei piccoli uomini, uno vogliuzzo per il giorno, uno vogliuzzo per la notte, fermo restando la salute e la descrizione esatta dell'uomo nell'età della tecnica.